Ancora un pezzo della storia del rock lascia la scena e morto Glenn Frey, fondatore e chitarrista degli Eagles. L'annuncio è stato dato dal sito ufficiale del gruppo, creato nel 1971. Gli Eagles sono gli autori di uno degli album più venduti della storia del rock, Hotel California, il cui single ha dato una notorietà in peritura alla band. Negli anni 80, dopo lo scioglimento del gruppo, Frey ha intrapreso una carriera da solista, firmando successi come The Heads Is On o Smuggler's Blues.